Musica Musica Vi 2012 In questa sola encapsula abbiamo il tasto per accensione e spegnimento e il bilanciere del modifier. Entro qui abbiamo anche un ascolt per inserire L'espansione breve, l'espansione della memoria completa a 8Gb Nella parte posteriore troviamo la fotocamera E' un ecobanel più plasticato da vedere Poco piacevo da vedere A soltanto troviamo un numero angelo di corretto interessante per supporto anche alla giocabilità per i bambini. Questa tabella è molto particolare per tutta la famiglia e ci sarà la possibilità di occupare la modalità bambino e poter affilare il tabella e le maniche per il bambino. Grazie per la visione!